allora oggi facciamo un altro esercizio tanto per variare un pochino e ci spostiamo da esercizi più astratti come quelli dei quadrati eccetera a esercizi un pochino più applicati e giochiamo con questo c'è già una parte del progetto iniziale su github si chiama appunto voti nobel quindi se volete seguire potete cominciare a scaricarvi se mi fate un fork e un clone di questo progetto così partiamo già con delle classi di partenza non dobbiamo scriverlo da zero ma ovviamente la parte interessante non c'è ancora qui ipotizziamo che voi vogliate partecipare ad un concorso per vincere il premio nobel è un premio nobel un po particolare perché premia coloro che hanno la media più alta in un sotto insieme non una media complessiva però di un sotto insieme dei propri esami la cui somma dei crediti sia esattamente m quindi ogni anno la commissione a stoccolmo di nobel decide quanti crediti valutare quindi potrebbero essere 100 potrebbero essere 120 e voi dovete presentare il vostro curriculum indicando un insieme di corsi che avete superato la cui somma di crediti faccia esattamente quel valore m e che la cui media ovviamente sia la più alta possibile allora per presentare domande ovviamente dovete riuscire a ottimizzare quali siano i corsi che indicate qui trovare un insieme di corsi non sappiamo quanti 1 2 7 8 la cui caratteristica sia che abbiano esattamente m crediti e la cui media non somma di voti ma media media pesata con i crediti sia la più alta possibile ok allora questo significa andare a cercare di ottimizzare un insieme di corsi sottoposto essenzialmente due vincoli cioè un vincolo di infattibilità cioè devo avere esattamente m crediti e poi un criterio di ottimizzazione se io ho due combinazioni di corsi che hanno esattamente m crediti quello preferibile rispetto all'altro è quello che ha una media più alta è una variante se vogliamo un pochino più applicata di un problema del problema dello zaino che probabilmente avete già sentito citare a ricerca operativa però qua lo risolviamo in modo ricorsivo e esaustivo questa applicazione non vogliamo fare solamente l'algoritmo diciamo che è già stato preparato una piccola interfaccia grafica molto banale in cui devo inserire il numero di crediti clicco su calcolo la migliore combinazione e qui c'è uno spazio in cui potrei stampare il risultato quindi abbiamo questo numero di crediti che è una casella di testo chiamata input questa casella di testo che si chiama result poi abbiamo un bottone calcolo la migliore combinazione che chiama un metodo do calcolo la migliore combinazione e questo metodo che chiama questo bottone che chiama un metodo do reset nel progetto c'è anche un controller vuoto che già contiene lo scheletro quindi una cosa molto semplice semplicemente per visualizzare le cose in interfaccia un pochino più decente che non semplicemente stampare sulla console e ovviamente questo lavora a partire dal valore di m che l'utente inserisce in questa casella e a partire dalla conoscenza di quelli che sono i vostri esami e i voti che avete ottenuto nei vostri esami questa conoscenza dov'è? e il testo dice che all'interno del progetto nella cartella db c'è un piccolo database che contiene un esempio di voti che potete caricare e poi eventualmente personalizzare con i vostri noi abbiamo messo i numeri ovviamente a caso oppure dentro questa classe model dentro il package dao c'è una classe popola db che di fatto fa una serie di insert in java quindi il dao è già implementato e c'è questa classe popola db che se volete potete usare per inserire i vostri voti chiaramente c'è un oggetto esame eccetera eccetera ma queste sono parti diciamo di standard su cui non ci vogliamo soffermare quindi la cosa più veloce per riuscire a partire è andare a importare importare questo database quindi carica il file che si trova qua in voti nobel database esami esegui lo script e ci ritroviamo con un esame triennale tabella esami e questi sono i dati di esempio che ci troviamo già in questo database quindi cosa deve fare la nostra applicazione? la nostra applicazione deve leggere questo database acquisire il valore di m e cominciare a ottimizzare sputtare fuori qual è il sotto insieme di voti migliore sotto insieme di insediamenti di corsi migliore allora al di là del codice che adesso scriviamo qual è l'impostazione ricorsiva che possiamo dare alla soluzione quindi proviamo a prenderci qualche appunto per ragionarci chiediamo un altro file chiamiamolo ricorsione e qui ci appuntiamo il ragionamento che facciamo qui noi abbiamo un input che è un set di corsi che poi sarà memorizzato dentro un set java o dentro una list poco importa set di oggetti esame di dimensione variabile non sappiamo quanti sono in input abbiamo anche numero di crediti m oh che brutto come lo faccia piccolo così e noi dobbiamo dare in output un set di esame vigla sotto insieme di quello di partenza per cui la somma di esame punto crediti sia esattamente uguale a m e la media di esame punto voto sia massima e vabbè questo è ciò che dobbiamo fare poi qui c'è scritto esame che abbiamo formalizzato il problema quindi alla fine la nostra procedura ricorsiva la nostra procedura di ricerca dovrà costruire un insieme o una lista se vogliamo mappare insieme su una lista di esami e quindi se sposiamo la filosofia della ricorsione dobbiamo costruire un algoritmo che generi di prima battuta tutti i possibili sotto insiemi di un insieme dato quindi chiamiamolo set di esame iniziale partenza visto che poi l'abbiamo chiamato partenza dopo quindi dobbiamo la strategia che ci diamo è generare tutti i possibili sotto insiemi dell'insieme di partenza qui parlo di insiemi e non di elenchi non di liste perché l'ordine non mi interessa cioè la soluzione analisi matematica e chimica e la soluzione chimica dell'analisi matematica che sono due elenchi diversi due liste diverse danno esattamente la stessa somma di crediti e danno esattamente la stessa voto medio e quindi non li devo trattare come due soluzioni diverse altrimenti andrei a provare troppe combinazioni equivalenti che non mi servono a nulla ok allora come posso approcciarmi io ho il problema di generarli insieme dividi a timpera come lo divido? posso generare insieme un corso per volta quindi mi posso chiedere approccio uno genero l'insieme un corso per volta scusate così non vuol dire nulla genero un insieme scegliendo decidendo corso per corso se fanno parte dell'insieme se esso fa parte dell'insieme cioè io mi ho i miei corsi allora mi chiedo questo primo esame fa parte dell'insieme o no? allora il primo livello della ricorsione avrà come scopo di decidere se il primo esame fa parte dell'insieme o no e le possibilità sono due sì o no? dopodiché quindi prova a costruire un insieme che abbia analisi matematica dentro e prova a costruire un insieme che non abbia analisi matematica dentro poi fine ricorsione a livello successivo mi chiedo questo secondo corso fa o non fa parte dell'insieme? sì? no? nei due casi quindi che abbia messo analisi 1 provo a mettere o non mettere chimica che non abbia messo analisi 1 provo a mettere o non mettere chimica e vado avanti così il terzo livello della ricorsione mi concentro sul terzo corso dell'elenco del mio libretto ok? quindi in questo caso quello che dico è che il livello della ricorsione corrisponde a quale corso sto decidendo se includere o meno nell'insieme soluzione a livello 0 considero se includere o meno il corso 0 e così via quindi vuol dire che io scendo giù nella ricorsione con una soluzione parziale come è fatta la soluzione parziale? è un sotto insieme che può includere o non includere composto però dai corsi tra 0 e livello chiamiamolo L L-1 quindi un sotto insieme possibile che però di sicuro contiene o non contiene abbiamo deciso avranno deciso i livelli della ricorsione superiore solamente i corsi tra 0 e L-1 quindi esempio a livello se L se il livello è C è 4 io potrei avere come soluzione parziale in ingresso la mia procedura ricorsiva l'insieme fatto dal corso 0 il 3 0-3 ad esempio oppure possibile può essere anche composto da 0 1 2 3 oppure può essere composto da nessun corso perché ai livelli precedenti avrò scelto di non includere nessuno dei corsi non importa questo è il tipo di insieme che mi arriva in ingresso a livello 4 un set che avrà al massimo 4 elementi al massimo 4 al minimo 0 e di sicuro però gli elementi che contiene sono quelli con perito 0 e il 3 della lista degli esami ok e quindi il mio scopo del determinato livello del mio livello della ricorsione quindi la costruzione la generazione del sotto problema è decidere se inserire l'esame le L oppure no e quindi di fatto genero sotto problemi in cui ho esattamente uguale alla soluzione parziale non aggiungo oppure un sotto problema o due casi no chiamiamole pure 1 e 2 in cui sotto problema invece sia la soluzione parziale che ho ricevuto più unito all'ellesimo corso ho questi due casi e in entrambi di questi due casi devo fare ricorsione oggi cambio le vocali ok quindi impostazione alla ricorsione è così ho un sotto insieme che costruisco un pezzo per volta e decido ogni volta dove mettere se mettere o no il successivo elemento costruisco e quando mi fermo nel costruire allora casi terminali quando è che la ricorsione può finire allora primo caso ovviamente quando l è uguale massimo cioè non ci sono più corsi e quindi non c'è nulla che io possa potenzialmente aggiungere qui sono arrivato alla fine della ricorsione non ho più scelte da fare e a questo punto posso vedere se la somma crediti uguale a M allora devo calcolare la media se invece la somma crediti è diversa da M niente abbandona questa soluzione non mi interessa non mi serve quindi ho costruito sotto insieme alla fine lo guardo dico quanti crediti hai supponiamo che M sia 120 ne ho 120 sì allora vediamo un po' la media quanto vale e poi se la media è più alta ce lo salviamo se la media è più bassa invece delle eventuali soluzioni precedenti lo dimentichiamo ecco questa è la soluzione è il caso in cui noi generiamo comunque cercamente tutte le soluzioni e poi solo quando ho una soluzione la guardo e cerco di valutare se è utile o no al problema in realtà posso far di meglio se io ho dopo 5 livelli di ricorsione no qui gli esami erano quanti erano 21 in questo database dopo 5 livelli di ricorsione per caso la somma di crediti è già uguale a M ok allora potrei già fermarmi subito perché so che se facessi delle scelte dopo che vanno ad aggiungere gli altri corsi sforerei il valore di M e quindi avrei alla fine una soluzione che avrei un miliardo di soluzioni possibili che sono tutte sbagliate perché erano tutte più crediti rispetto a M quindi se per caso e qui lo metto sempre sotto casi terminali cioè un caso terminale ovviamente è quando finiscono i corsi ma ci sono degli altri casi che posso intercettare per evitare di arrivare fino in fondo ogni volta quando so che posso che conviene fermarsi prima ad esempio se la somma crediti è già uguale a M allora a questo punto valuta la media e non proseguire sotto problemi non generare degli altri sotto problemi oppure se la somma crediti è maggiore fosse maggiore di M perché magari a livello prima è troppo poco poi aggiungo un esame a livello dopo è già troppo già sforato devo arrivare esattamente a M allora in questo caso esci non c'è niente da fare boh ho sbattuto contro il muro giriamoci dall'altra parte non insistiamo da questa strada perché ormai abbiamo già sforato non so se si possano anche inventare dei criteri di stop dei cari terminali basati sulla media non è evidente a prima vista lasciamolo perdere però uno potrebbe ragionare dicendo ma guarda che io so già che gli esami che mi rimangono sono tutti nella ricorsione da considerare hanno tutti un voto più basso della media attuale quindi non possono fare altro che diminuirmi questa media quindi non vale la pena continuare però questi sono ragionamenti più fini che bisogna formalizzare meglio perché essendo una media pesata sul numero di elementi variabile bisogna fare attenzione a non tagliare fuori dei casi invece positivi ok quindi vuol dire che abbiamo una ricorsione che è in grado ovviamente di arrivare fino in fondo ma anche di fermarsi prima se questo è utile e dal punto di vista delle prestazioni dopo la brutta esperienza di ieri col quadrato magico direi che ci viene sicuramente utile ci torna sicuramente utile ok quindi questo è un primo possibile approccio che adesso magari implementiamo la soluzione completa ovviamente non è altro che la soluzione parziale quando sono arrivato al numero massimo e facciamoci ancora una domanda cosa faccio nel caso terminale nel caso terminale innanzitutto valuto m cioè se la somma crediti è diversa da m non fai niente return buttiamo via questa soluzione abbiamo spero un po' di tempo per trovarla se invece la somma crediti è uguale a m uguale a m valuta la media l'abbiamo già scritto sopra e a questo punto confronta la media di questa soluzione è migliore delle medie precedenti della miglior media conosciuta cioè vuol dire che io durante la ricorsione a me non interessa salvarmi tutte le possibili combinazioni di corsi che hanno esattamente mcrediti cioè devo visitare queste combinazioni ma poi non mi interessano mi interessa solo quella che ha i voti migliori allora ogni volta che trovo una soluzione che abbia esattamente mcrediti calcolo la media e la vado a confrontare con la media della soluzione precedente che avesse anch'essa ovviamente mcrediti le guardo e dico una delle due sarà meglio dell'altra avrò la media più alta a questo punto se ha la media più alta questa che ho appena trovato la salvo e butto via quella precedente quindi di fatto se sì allora metto la soluzione corrente diventa il best se no non faccio niente return ho trovato una soluzione ha il numero di crediti giusti calcolo la media media 27.4 eh sì però con quell'altra combinazione di corsi avevo già 27.5 allora questa qua non mi serve a niente contento di averti trovato arrivederci vattene quindi alla fine della ricorsione ciò che mi interessa è questo best che è stato via via incontrato tante volte ho controllato e ogni volta che trovo una soluzione la confronto con questo best se è migliore aggiorno il best e alla fine della ricorsione avrò il best dei best avrò il valore massimo di tutte le possibili soluzioni che ho incontrato e quello è il mio risultato quindi dopo che ho trovato una soluzione non posso accontentarmi dicendo ne ho trovata una ma devo continuare a cercare tutte le altre perché quelle altre magari sanno migliori questo è ciò che distingue un problema di ricerca da un problema di ottimizzazione nel caso del quadrato magico se mi avessero chiesto trovami un quadrato magico una volta che ho trovato il primo potevo fermarmi noi per esercizio abbiamo provato a generare di tutti ma è raramente il caso in cui devi generare tutte le soluzioni possibili hai un problema trovami almeno una soluzione che funzioni nel caso di quadrato magico le soluzioni sono tutte equivalenti perché rispettano tutte esattamente i stessi vincoli quindi prendere il primo il terzo il centesimo è lo stesso in questo caso invece abbiamo tante soluzioni potenziali ma una perché hanno un vincolo pari al credit IDM ma una sola avrà un valore maggiore degli altri quindi questo non è un problema di ricerca in cui trovami una soluzione di corsi punto pur che sia ma è un problema di ottimizzazione perché sottostando certi vincoli di ricerca cioè il numero di credit deve essere M devo ottimizzare cioè massimizzare in questo caso una certa funzione di valore che in questo caso è la media dei voti la ricorsione serve in entrambi i casi sia appunto per ricercare e trovo almeno una soluzione sia per analizzare tutte trovando quella migliore ok prima di andare avanti dicevo a implementare questo si potrebbe considerare anche un approccio alternativo allora il nostro obiettivo qual è sempre generare sotto insiemi allora nell'approccio 2 posso dire che ad ogni livello aggiungo un corso devo decidere quale completamente diverso fa la stessa cosa ma scende in una ricorsione in modo completamente diverso nel caso precedente a livello 4 della ricorsione potevamo avere un insieme che conteneva 0, 1, 2, 3 o 4 o 4 o 4 elementi L uguale a 4 vuol dire che eravamo al quinto qui invece decidiamo che ad ogni livello la soluzione parziale a livello L è un insieme di L corsi quindi a livello 0 avrò 0 corsi a livello 1 ne avrò 1 a livello 2 ne avrò 2 e così via e come faccio a generare la soluzione? allora per generare un solito problema devo aggiungere un nuovo corso all'insieme esistente e quindi per tutti i corsi possibili non ancora nell'insieme devo aggiungere quindi sotto problema uguale soluzione parziale più corso i quindi io sono sicuro che ogni volta che scendo aggiungo un corso nel caso precedente potevo scendere una ricorsione e non aver aggiunto nulla nel senso che la soluzione parziale continuava ad essere sempre la stessa di prima perché ho scelto di non aggiungere qui invece ogni volta aggiungo qualcosa mi chiedo qual'aggiungere quindi primo livello della ricorsione avrò 21 scelte possibili ho 21 esami e mi chiedo qual'è il primo esame da inserire nell'insieme questo ricorsione al secondo livello arrivo con un insieme che ha un corso solo L uguale 1 e scelgo quale altro corso aggiungere tra i 20 rimanenti e così via e poi arrivo in fondo ovviamente i casi terminali sono esattamente uguali a prima perché se trovo su quell'insieme di corsi esattamente i miei crediti faccio il conto della media eventualmente mi salvo il best è solo diciamo così il criterio di discesa prima di implementarli riusciamo ad occhio a indovinare la complessità di questi due approcci? complessità ovviamente nel caso peggiore quella in cui non non riusciamo ad anticipare l'uscita nei casi terminali allora nell'approccio 1 allora io ho massimo n livelli al primo livello ho due scelte possibili da fare al secondo livello ho due scelte possibili da fare al terzo livello ho due scelte possibili da fare e così via quindi alla fine quante combinazioni di scelte posso avere cioè quanti nodi terminali della ricorsione avrò 2 per 2 per 2 per 2 per 2 quindi la complessità in questo caso è 2 elevato a n se n è il numero di esami 2 alla 21 è come se voi aveste a fianco di 21 corsi una carallina in cui mettere ce lo manca ce lo manca ce lo ce lo 0 1 0 1 0 1 quante colonie diverse potete fare due valori diversi in 21 posizioni possibili fa 2 alla 21 voi mi dite eh ma è brutto 2 alla n esponenziale mannaggia non ce la faremo mai eh aspetta attenzione la complessità è sintotica 2 alla n ma voi non date asintoticamente milioni di corsi no? cioè n in questo problema non crescerà mai più di 25 26 allora 2 alla 20 è un milione di combinazioni eh dai ce la possiamo fare 2 alla 25 sono 32 milioni di combinazioni nel caso peggiore in cui non ci fermassimo prima nella ricorsione no? fattibile ovviamente non dobbiamo fare a mano se no è chiaro che se n fosse 100 allora non ce la fa il più perché l'esponenziale è crescendo però n non è 100 non abbiamo 100 esami diversi e se dovessimo già cercare magari lo studente migliore di tutto il Politecnico allora che hanno veramente tanti esami diversi da gestire forse n potrebbe crescere di più ma nel nostro caso non ci spaventa così tanto e nell'approccio 2? in questo processo 2 è un pochino più scemo e ha una complessità n fattoriale come ho sentito dire da qualcuno di voi perché sto man mano che scendo aggiungo ogni volta un corso e quello che sto facendo è di aggiungerli in tutte le combinazioni possibili in tutti gli ordini possibili purtroppo fatto così fatto così mi genera primo livello scelto il corso 5 al secondo livello ricergo il corso 4 poi un'altra soluzione al primo livello scelgo il corso 4 al secondo livello scelgo il corso 5 questa ricorsione me la genera tutte queste soluzioni posso evitarlo? sì sì purché io scelga una forma canonica standard in cui elenco la lista se io sto costruendo una lista di corsi ok? pescando in posti diversi dei corsi di partenza come faccio a essere sicuro di non generare mai 4-5 e 5-4 e beh basta che io metta un vincolo che ogni corso che aggiungo deve sempre essere maggiore di quelli precedenti ok? io aggiungo il corso 1 se ho aggiunto il corso 1 posso scegliere il secondo livello tra il 2 e il 21 se ho aggiunto il corso 5 però i costi da 0-4 non li guardo più 5 neanche perché l'ho già messo li guardo solamente solo da 6 in avanti cioè io ad ogni livello di ricorsione posso scegliere solamente tra i corsi che hanno un numero di una posizione maggiore del corso dell'ultimo corso che ho inserito di fatto di quello che ha la posizione più alta ma in realtà è anche l'ultimo per come l'ho inserito l'inserito sempre in modo crescente quindi vincolo detto in parole più brevi ma forse meno comprensibili vincolo la soluzione parziale che sto creando ad essere crescente al suo interno a contenere dei valori crescenti crescenti non come voto crescenti come posizione del corso che considero allora in questo modo elimino tutte le possibili permutazioni equivalenti perché tra se ho 5 corsi o 5 fattoriali permutazioni diverse se ne scelgo una sola avrà i numeri crescenti lì dentro tutte le altre lì avranno non crescenti e quindi in questo modo con un'accortezza che in questo caso è fondamentale quindi permettere solo sequenze crescenti di esami nella soluzione parziale riesco a scendere alla complessità che è di nuovo la stessa 2 alla n che è quella del problema quindi da questa non me la tolgo non si vede a occhio che sia 2 alla n ma è così ho crescenti non consecutive non sto dicendo che le uniche conseguenze che considero sono 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 non sto dicendo questo 1 1 4 1 4 12 sì non considererò mai la sequenza 4 1 o 4 12 7 perché non considero 4 12 7 ma perché di sicuro non sarà quella vincente no magari lo è ma tra 4 12 7 e 4 7 12 scelgo di guardare solo 4 7 12 e l'altra no perché tanto è equivalente quindi questo a volte può essere utile avere questo criterio in cui quando aggiungo non aggiungo tutte le possibilità perché sono che in realtà internamente al problema ci sono delle simmetrie che fanno sì che alcune scelte non portino a nuova informazione rispetto ad altre e spesso allora a questo punto si dà un ordine agli elementi e si decide di scegliere solamente sulla base di quest'ordine crescente dimmi allora lui chiede ma il primo algoritmo o il secondo ma soprattutto il secondo se si può tu hai detto semplificare che non è la parola giusta modificare o rendere più efficiente qua quando dico aggiungi un nuovo corso in che ordine li aggiungo in che ordine li considero io nel ragionamento che ho fatto li ho considerati in ordine di apparizione così come sono ma nessuno vieta di ordinarli per voto oppure lui suggerisce per rapporto tra voto e crediti quindi il peso specifico si può fare allora cosa significa? significa che ovviamente considerando i corsi in un ordine diverso genererò un albero di soluzioni potenziali diverso la dimensione di questo albero in teoria è la stessa perché comunque devo considerare tutte le combinazioni perché quel criterio lì non è un criterio assoluto non posso dire che matematicamente perché c'è un problema anche di crediti c'è un corso magari a 5 crediti che è un voto altissimo però è l'unico con i crediti dispari ti servono i crediti pari e quello non lo puoi mettere non puoi a nessun passaggio essere sicuro che quella scelta sia la scelta ottima tu stai vincolando qualche cosa beh non puoi dovresti dimostrarlo se riesci a dimostrarmi che come primo corso che la soluzione ottima qualunque soluzione ottima contiene necessariamente quel corso allora lo puoi mettere però me lo deve dimostrare quello non puoi dire mi sembra che se no stai facendo una soluzione euristica cioè di buon senso ma non esatta qual è il vantaggio di partire dai corsi più promettenti ovviamente non possiamo non siamo neanche obbligati a trapparci gli occhi dicendo tutti i corsi sono uguali quindi cominciamo a mettere tutti i 18 no se io riesco a mettere prima dei corsi più promettenti vorrà dire che troverò una soluzione best il primo best che trovo sarà già un best molto furbo e allora magari mi permette di tagliare prima delle altre soluzioni in questo caso non le taglio perché non ho un criterio per fermarmi prima però in altri problemi si può fare quindi un altro criterio su cui giocare è anche quello appunto di scegliere non solo l'approccio con cui scende una ricorsione ma poi anche ad ogni livello investire un po' di tempo per dire vado prima da questa parte oppure prima dall'altra parte quello mi permette anche di dire se la ricorsione non riesce ad arrivare fino in fondo perché non ho abbastanza tempo di CPU disponibile comunque la soluzione che ho intermedia è già buona perché dentro ci ho messo dei criteri nella complessità ricordiamoci che c'era la formuletta che diceva tempo per decomporre i problemi più la ricorsione più il tempo per ricombinarli quindi noi stiamo cercando di investire più tempo per decomporre i problemi cercando di essere un pochino più furbi sperando che questo ci riduca il numero di chiamate ricorsive e che quindi alla fine ci possa convenire dimmi come faccio a dire che la materia la aggiungo oppure no? io ho come soluzione parziale un insieme quindi quando faccio la chiamata ricorsiva la soluzione parziale nel primo caso che non l'ho aggiunta sarà esattamente uguale non la tocco quindi ricevo parziale e inserisco parziale nel secondo caso invece faccio un add dell'esame e passo l'insieme con l'elemento aggiunto quindi in un caso faccio parziale punto add e nell'altro non lo faccio adesso a livello di codice lo vediamo ok? si no in questo caso se vi chiedono il numero di crediti dispari noi per fortuna abbiamo un corso che ha il numero di crediti dispari che è inglese e allora riusciamo comunque a recuperarlo perché vuol dire che se il numero di crediti M fosse pari di sicuro inglese non c'è perché è l'unico dispari se il numero di crediti totale fosse dispare di sicuro inglese c'è se avessimo tutti gli esami pari con il numero di crediti pari e ci messe richiesto il numero di crediti dispari non avremmo soluzione non c'è soluzione che dia esattamente M sarebbe diverso molto più complicato formulare un problema in cui il numero di crediti è più vicino possibile M e contemporaneamente la media più alta possibile perché a questo punto avrei due quantità indipendenti da ottimizzare diventerebbe un'ottimizzazione multifattoriale e si incasina molto di più il criterio di dominanza qui è meglio questo meglio quell'altro in questo caso abbiamo un vincolo secco M esatto e un fattore da ottimizzare la media quindi ringraziamo l'inglese e quindi possiamo anche avere soluzioni con i crediti dispari ok buttiamoci al codice vabbè a questo punto diciamo così nel il controllo che c'è già e di fatto quando l'utente inserisce un valore chiama già un metodo del modello che si chiama calcola sotto insieme esami a cui viene passato il numero di crediti e questo calcolo sotto insieme esami è vuoto è il lavoro che dobbiamo fare dobbiamo fare basandosi su una procedura ricorsiva che magari possiamo già mettere direttamente anche qua dentro il modello che implementa magari l'approccio 1 perché è quello più semplice più semplice da implementare quindi la procedura ricorsiva cosa riceve allora cosa ha bisogno per lavorare ha bisogno della lista degli esami completa che in qualche modo dovremmo acquisire però questo è un problema più generale visto che è costante che non cambia possiamo pensare di averla a livello di classe private list di esame esami poi questa la leggeremo dal database quindi non abbiamo la necessità di passarla ricorsivamente a tutte le procedure poi avrà bisogno di conoscere qual è l'insieme corrente di scelte fatte quindi potrebbe essere un set di esami parziale il livello e poi ha bisogno di sapere qual è la soluzione migliore vista finora anche questa potremmo list di esame best quindi il primo è esami letti dal database e va bene poi mi servono delle variabili per gestire la ricorsione che siano la soluzione migliore vista finora e ovviamente per non ricalcolare più volte la media del best cioè qual è il voto medio di quella soluzione lì quindi questo best è ciò che la nostra procedura calcola sotto insieme dovrà restituire alla fine la vita della procedura ricorsiva serve per popolare quella lista best quindi questa procedura lavorerà così è un set qui bisogna mettere già punto utile punto set ah l'altra cosa che deve conoscere è il numero di crediti quello che abbiamo chiamato M allora qui abbiamo una soluzione parziale e quindi ci chiediamo siamo in un caso terminale se no siamo invece nel caso normale e quindi generiamo sotto problemi prendiamo prima il caso normale che è più facile in generale abbiamo una soluzione parziale abbiamo un livello L e ci chiediamo l'esame l'esame della lista esami in posizione L è da aggiungere o no questa è semplicemente una scelta dicotomica quindi provo a non aggiungerlo provo ad aggiungerlo provo a non aggiungerlo e che vuol dire che chiamo ricorsivamente la procedura di ricerca passando lo stesso insieme parziale che ho ricevuto io a cui non ho aggiunto nulla L più 1 dicendo che l'L non l'ho messo vedi tu se mettere l'L più 1 M vado avanti passo al mio sottostante lo stesso insieme che ho ricevuto io perché ho deciso che il corso di mia competenza ho provato a non metterlo non c'è da fare nessun backtracking qui perché non ho modificato niente e quindi posso a questo punto provare ad aggiungerlo quindi farò un parziale punto add di esami punto get di L cioè prendo l'esame in posizione L dall'elenco degli esami e lo aggiungo a questo insieme a questo punto posso fare la ricerca passando di questa soluzione parziale che è già stata aumentata con questo esame LP1 M e poi backtracking rimettiamo le cose a posto quindi per ogni chiamata ricorsiva ne faccio due sottostante entrambe a livello LP1 una in cui non ho aggiunto il corso L l'altra in cui ho aggiunto il corso L e lui giù genera a un certo punto mi devo fermare e quindi andiamo a valutare e analizzare i vari casi terminali allora la prima verifica che mi conviene fare è sul numero di crediti prima di tutto vediamo se questa soluzione parziale per caso avesse già più di M crediti scappiamo via più velocemente che possiamo quindi calcoliamoci i crediti della soluzione parziale c'è un metodo che dobbiamo implementare vabbè no in realtà non è un metodo parziale perché parziale è un set quindi insomma se facciamolo così poi dobbiamo implementarcelo questo metodo quindi se crediti è maggiore di M esci e basta fine ho già troppi crediti ho sballato la mano e via non perdiamoci altro tempo se invece crediti fosse uguale a M allora devo valutare la media la media è calcolo la media della soluzione parziale e andiamo a vedere se questa media è o non è migliore del best quindi se media è migliore è più alta di come si chiamava media best allora ho trovato ho trovato una nuova soluzione migliore di quella che conoscevo prima quindi sostituisco al best precedente questo che di sicuro è migliore quindi la nuova soluzione best sarà uguale attenzione a non scrivere parziale perché dobbiamo clonarla perché altrimenti facciamo riferimento sempre al stesso oggetto quindi quando salvo qualcosa devo fare una copia in questo caso è un oggetto di tipo set quindi basta semplicemente usare il costruttore di set set di esame e gli passo il new s scusate creiamo un nuovo set esame 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 ah si ok parentesi troppo ah scusate una lista perché questo deve restituire una lista va bene noi lavoriamo con l'insieme ma poi alla fine salviamo restituiamo una lista ok forse sarebbe stato meglio restituire non insieme ma farò lo stesso quindi prendo la soluzione parziale che ha un set e costruisco una lista che fotografa il contenuto del set in questo momento dopodiché il set può cambiare ma la best si è salvata ho salvata fino alla prossima volta in cui troverò qualcosa di meglio in cui butterò via questo e ne farò un'altra e ovviamente media best uguale media quindi qui ho analizzato una soluzione parziale perché non sono arrivato ancora al fondo della ricorsione e ho trovato che questa soluzione parziale migliora l'ottimo domanda devo ancora andare avanti con la ricorsione partendo da questa soluzione cioè qua mi sto chiedendo devo scrivere il return o no se il return vuol dire che ha salvato questa soluzione e poi da quel ramo della ricorsione non scende più se non metto il return è dopo che lui si è salvato il best che è giusto l'ha fatto bene poi comunque proverebbe a generare altre soluzioni è possibile che io generando altre soluzioni partendo da questa trovi qualcosa ancora di migliore no perché o non aggiungo nulla e allora la media non cambia o aggiungo qualche cosa e allora sforo il numero di crediti quindi in questo caso no è giusto uscire in altri casi potrebbe aver senso trovo una soluzione questa è buona me la salvo ma continuo a costruire perché magari una soluzione più lunga di questa potrebbe avere un vantaggio non in questo caso però è una domanda che dobbiamo farci di caso in caso bisogna decidere altrimenti altrimenti allora qui siamo nel caso in cui o m crediti ma la media purtroppo non è migliorativa rispetto alla media precedente ok niente di sicuro non vale la pena aggiungere altri corsi perché se no sforerei gli m crediti e quindi non vado avanti nella ricorsione di sicuro non mi serve niente salvare questa soluzione perché ne conosco già una migliore esco dimmi in questo caso no? non cloniamo nulla qua si lo stiamo clonando questo qui io non ho scritto best uguale parziale ho creato una nuova array list costruente costruito copiandoci dentro gli elementi che attualmente fanno parte del set parziale quando noi creiamo qualunque collection quindi una lista in set eccetera normalmente il costruttore ce l'abbiamo vuoto perché la creiamo vuota se invece gli passiamo un parametro lui va a costruire una nuova lista copiandoci dentro gli elementi di un'altra collection quindi normalmente gli elementi esame non li tocchiamo quindi non c'è bisogno di clonarli quelli sono immutabili le bellette del database non cambiano però il fatto che vengono inseriti in questa lista è una lista separata diversa c'è questo new qua che parla perché questo è un oggetto semplicemente list quindi non ha un metodo clone se avessimo fatto un nostro oggetto probabilmente avremmo implementato il clone e avremmo fatto questo lavoro il clone viene fatto assolutamente ok c'è un altro caso terminale da considerare allora crediti maggiore di m esco crediti uguali a m esco crediti quindi sono qua con crediti minore di m di sicuro di sicuro crediti minore di m ha senso quindi devo per forza continuare no devo continuare se c'è da continuare se ho ancora corsi da poter provare a inserire di sicuro il numero di crediti che ho è minore di m quindi mi verrebbe voglia di provare ad aggiungere dei corsi per aumentare il numero di crediti ma magari non ho più corsi perché sono già a livello 21 della ricorsione e allora non c'è più niente da fare ho creato un insieme facendo ricorsione talmente piccolo che sono arrivato al fondo e non ho aggiunto i crediti necessari allora torno su e farò delle scelte diverse quindi devo uscire anche se questo è già il caso determinale della ricorsione quindi se per caso il livello è uguale a il livello la L che mi dice quanti corsi quanti esami ho già considerato è uguale al numero di esami che c'erano in totale da considerare non c'è più nulla da fare e qual è il numero di esami in totale da considerare esami.size c'è il numero di elementi nella lista questo è il caso terminale normale naturale ho esaurito i dati torno indietro quegli altri due che abbiamo messo prima sono terminazioni premature che potrebbero avvenire anche prima di trovare il caso terminale e tanto ci fanno bene ok metto questo dopo perché se si verifichino contemporaneamente la condizione crediti uguale M e L uguale esami size è più importante questa perché all'ultimo esame ho messo esattamente quello che mi faceva raggiungere gli M crediti quindi devo valutare prima questa ok allora abbiamo fatto il caso medio che ero intermedio abbiamo fatto il caso terminale i casi terminali in questo caso rimane il caso iniziale cioè l'avvio della ricorsione l'avvio della ricorsione è compito della procedura chiamante che deve predisporre tutte le variabili delle collection in modo che la ricorsione poi possa lavorare correttamente e poter fare la prima chiamata alla procedura di ricerca allora cosa devo fare innanzitutto best e media best devono essere inizializzate in qualche modo quindi best uguale new array list vuota tanto per non avere null pointer exception durante il codice della ricorsione ovviamente prima di iniziare la ricorsione non conosco un best e quindi posso mettere come media best un valore che sicuramente è inferiore alla media dei vostri esami ok dopodiché la soluzione parziale crea un nuovo insieme vuoto e a questo punto posso avviare la ricorsione cerca parziale che è l'insieme vuoto a cui via via la ricorsione aggiungerà elementi il livello 0 che è il livello di partenza m che è il numero di crediti e che è la variabile numero crediti che ho ricevuto come parametro potrei anche mettere null qua adesso ci pensavo perché così se la cerca non trova nulla perché magari quando è che non trova nulla quando non c'è nessuna combinazione di corsi che mi dà esattamente m crediti allora questa procedura ritorna null perché vuol dire che non c'è soluzione questo documentiamolo però altrimenti quindi trova la combinazione combinazione di corsi avente la somma di crediti richiesta che abbia la media massima quindi può ritornare l'elenco dei corsi ottimale oppure null se non esiste alcuna combinazione di corsi che somma la somma al numero esatto di credito di crediti che è l'unico caso in cui non riesco a darti una soluzione se riesco a arrivare a m crediti la media può essere sgualfissima può essere 18 17,5 non lo so ma ti ho comunque dato una soluzione l'unico caso in cui non riesco a darti una soluzione è quando proprio non c'è nessuna combinazione quindi se mi hanno chiesto 300 crediti se mi hanno chiesti due non riesco a darti una soluzione tutti gli altri valori tra il 3 e il 180 ma quanti sono dovrei riuscire a trovare una combinazione almeno una combinazione poi vediamo la media quale sia ok questo dovrebbe essere abbastanza completo dobbiamo implementare questi due metodi noiosissimi e leggere il database dimmi eh infatti leggere il database e la lista di esami la lista di esami conviene leggerla nel costruttore del model in questo caso no quindi questo model adesso non ha nessun ancora costruttore ne chiediamo uno che chiede al DAO di leggere la lista degli esami quindi esame DAO new esame DAO e caro esame DAO dammi la lista quindi dis.esami uguale DAO punto get tutti esami è già fatto quindi quando costruisco il model lui si va a leggere i dati del database e poi dobbiamo ovviamente implementare questi due metodi somma crediti che devo creare che devo creare e semplicemente insomma uguale a zero for esame e due punti parziale somma uguale somma più e punto get credit detto una somma una somma è idem per la media nel senso che questo calcolo a media avrà un double media uguale zero for esame e parziale media uguale media più e punto get voto e poi return media diviso quindi adesso ho fatto la somma dei voti e poi devo dividere per la somma dei crediti no devo dividere per il numero di esami ma ciò che devo sommare è allora la media pesata devo fare la somma di voto per crediti diviso la somma dei crediti ok quindi e punto get voto per e punto get crediti diviso vabbè dai facciamo gli efficienti teniamo conto in parallelo della somma e dei crediti e quindi così si poteva usare il metro sotto ma avrei fatto una passata in più sulla collection vabbè ma questi sono metodini quelli antipatici no cosa ci manca forse niente il controller calcola questi insieme dobbiamo stamparli ovviamente ancora mi sono sposato con il controller però lo metto così senza formattazione poi si può mettere più carino ma per ora proviamo a vederlo prendo questo sotto insieme i voti calcolato sappiamo che può essere null dimmi si calcola meglio dimmi ok allora riproviamo proviamo adesso a farlo funzionare vediamo cosa succede allora prendiamo il main allora numero di crediti 50 vabbè stampato una cosa brutta da vedere ovviamente questo codice 30 poi ho messo un altro 30 poi ho messo un 29 un 30 e un 27 e un 28 noi sappiamo che in teoria se inseriamo se inseriamo 3 dovremo trovare solamente inglese se inseriamo 2 non dovremo trovare nulla e quindi bella eccezione qua sotto che poi ovviamente dobbiamo gestirla ma oggi siamo concentrati sulla ricorsione se mettiamo 100 crediti ci pensa un po' neanche tanto e ovviamente mi dà un insieme di corsi più lungo poi dobbiamo formattarli incolonarli bene fare le somme ma adesso solamente per avere una impressione che stia facendo la cosa giusta 101 e quello che non abbiamo stampato qua è la media penso che è interessante vedere se vi do delle cose un po' più strane la media potrebbe essere più difficile se io però provassi con 200 mi è di uno spattare l'eccezione perché ha restituito un null perché ovviamente non ho abbastanza corsi per fare 200 crediti adesso qui è di resistire tutti gli errori i messaggi eccetera però sta facendo la cosa giusta se ho troppi pochi crediti troppi oppure artificiosamente dicessimo che inglese non è data crediti ma è da due e quindi chiedessi qui devo far ripartire il programma perché mi relega il database chiedessi un qualunque numero di crediti dispari dovrebbe 100 dovrebbe trovarli 101 no perché essendo tutti pari non riesce mai ad arrivare al numero esatto e mettiamolo a posto ok quindi rimanendo il fuoco sulla ricorsione alla fine siamo qua generazioni sotto insiemi questo è il modo più semplice se provo a mettere provo a non mettere domande? dimmi giù qui o sotto sotto? qua allora a me preoccupa un po' che voi siate preoccupati di questi calcolini qui e non della ricorsione in quanto tale perché vuol dire che la ricorsione è più facile delle cose queste cose qua dovrebbero le chiamo metodi noiosi perché in realtà non c'è nulla di intelligenti bisogna solo fare i conticini giusti scandire le collection e cose di questo genere visto che abbiamo due minuti ancora devo presentarvi il mio amico quando vi trovate di fronte questa è una tecnica che dicono che funziona abbastanza di dotarvi di una paperella di gomma o qualche altro animale di vostro gradimento soprattutto su questa fase qua cioè quando ragioni su un problema io ho avuto il vantaggio che avevo di fronte voi e quindi dovevo ragionare con voi convincervi e quindi contemporaneamente convincevo me stesso del fatto che la cosa fosse giusta così poi ogni tanto c'era qualcuno che diceva no guarda che è sbagliato ben venga poi a volte non sempre uno può avere quando si può proprio in generale nell'informatica è molto in uso la tecnica del peer programmatico cioè programmare a due due persone insieme discutono poi magari un po' scrivo io un po' scrivi tu però ci si confronta a volte non hai una persona insieme quindi ti prendi una paperella a cui andare a spiegare quello che stai facendo e il fatto stesso di spiegarlo lo so però a volte uno è talmente disperato che il fatto stesso di spiegarlo ti chiarisci esattamente ciò che stai facendo questo in fase di concettualizzazione quindi impostazione dell'algoritmo ancora di più in fase poi di debugging quando dici non funziona perché allora cerchi di capire secondo me non funziona per questo motivo dove l'errore eccetera ok quindi sempre con voi nello zaino la vostra controparte di programmazione va bene vi lascio fare un po' di intervallo e poi la lezione dopo è un po' di intervallo è un po' di intervallo è un po' di intervallo è un po' di intervallo